Musica 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 Credete che Cosimano ora mi lasciano in pace? Per forza è stato ricoverato in una clinica psichiatrica perché si ostina a voler andare volontario in Africa orientale Mischino non si rende conto che l'Africa l'abbiamo perso già da un pezzo ma lasciamo stare Cosimano e l'avventuroso che devi e pensiamo a noi piuttosto figlio delle ponte ecco 150 lire ora questo è la fine del mese con la pensione ma che cosa avete capito la mia parcella se per questo 500 lire sarebbe che da voi non potrei mai accettare non saprò non saprò mai come ringraziarvi Avvocato Gioia Avvocato mi ha pregattato? Un e me ne vai Un e Gioia Avvocato aspettate è una vita che vi aspetto 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 se volete Avvocato no mi occuperò io della vostra vita Avvocato no di te sei una madre Avvocato no Lei la perdono perché l'ha fatto per riconoscenza per pagare un debito all'avvocato una volta sola e mai più ma tu non hai rispettato i patti A mio figlio è vero a mio figlio è vero Grazie a tutti.